Che cosa fai? Secondo te? Andati. No, ma Sebastien... Porta lì davanti. Portano dei materassi. Sebastien! Sebastien! Vai, vai. Che fa quell'idiota? Qui va bene. Per favore, Sebastien, che cos'è questa storia? Avevi ragione, non c'è abbastanza posto lassù. È meglio che vengano qui. Cosa? No, ma... Sebastien, vieni qui. Che c'è? Dimmi perché lo fai. Per solidarietà. Ma pensa per te, invece di voler salvare il mondo, è già un bell'impegno, ma guardati. Incapace di avere un vero mestiere. È nuova quella del vero mestiere. Io alla tua età avevo... Questo dove? Lascialo lì. Alla tua età avevo già aperto uno studio dentistico. Ma lo vuoi capire che l'ultima cosa che desidero è assomigliarti? Tu sei l'ultimo baluardo dell'imperialismo o dell'individualismo. Come? Sei egoista. Egoista a me, a me, a me egoista. Questa sì che è buona. Pensi solo alle tue piccole esigenze e degli altri te ne freghi? Beh, senti, al limite potrei eventualmente ospitare uno o due persone, ma non dieci. Mi fai schifo. Ora basta, vieni. Io e tua madre abbiamo una cosa molto importante da dirti. Permesso.